Ciao dormiglioni, come va? Oggi ve l'avevo anticipato, l'avevo anticipato qualcuno nei commenti perlomeno, nuovo gameplay di Fortnite. Oggi sono un po' sfatto senza lenti, insomma non avevo voglia di sistemarmi per registrare, ho un po' di mal di testa, così di questo tipo, quindi evito le lenti. Ok, inizia subito il gioco. Allora, battaglia reale, ok. Allora, mentre carica, io ricordo sempre a tutti che sono le prime volte che gioco a Fortnite, quindi non sono un professionista, non è la mia ambizione diventarlo. Questo è un video gameplay ASMR, quindi il fine di questo video è unicamente rilassarci e, insomma, godendo anche un pochino della mia nabbaggine. So di non essere bravo, so di essere abbastanza nabbo su molte cose, ma questa settimana, a differenza dello scorso gameplay, so che per curarmi devo stare fermo. Grazie ai vostri suggerimenti. Ho anche scoperto che posso spostare le armi e le cure dell'inventario e, insomma, sì, in queste due settimane che sono passate dallo scorso gameplay, mi sono esercitato un pochino, 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 e inizio a capire abbastanza come si gioca e, devo dire, mi sono anche preso abbastanza. So che la volta scorsa avevo usato parole non troppo positive per il gioco, nel senso, dicevo, boh, non capisco come si gioca, non so come la gente possa essere ossessionata da Fortnite. Chiaramente era di peso dal fatto che non sapessi giocare e che il gioco in sé non desse grandi dritte sul come farsi giocare. Ma devo dire che, grazie ai vostri suggerimenti, le cose sono sicuramente migliorate. Ad esempio, ho anche scoperto tutta questa cosa della classificazione delle armi. Non sono ancora molto in grado di individuare quale usare correttamente, ma un po' alla volta. Dovete sapere, in queste ultime settimane sto giocando molto con il Mac. Peraltro ho scoperto appunto che si chiama Mac e non drone, come erroneamente pensavo. Effettivamente anche in Overwatch D.Va ha un Mac, non il Mac, il computer, chiaramente. E appunto giocando con il Mac mi trovo parecchio in primis perché ho una protezione in più e soprattutto perché mi piace molto come attacca, come spara, mi piace molto. E quindi cerco sempre di prenderlo e qualche uccisione in più la riesco a fare rispetto ai video scorsi, insomma. Ok, anche a questo giro sono riuscito a prenderlo molto bene. Dovete sapere, qualche giorno fa con il Mac sono riuscito ad arrivare tipo nei primi cinque di nuovo facendo tre uccisioni, quindi nulla di trascendentale sia ben chiaro. Però mi reputo soddisfatto, nella mia incapacità mi reputo assolutamente soddisfatto. Poi anche questa cosa che li salta fa questi mega saltoni all'iCAD. Ok, allora in genere anche con il Mac cerco di evitare comunque gli scontri dieti perché mi fanno fuori. Devo prendere un po' di dritte. Molti nei commenti mi avete detto Sì Luca ma quando ti sparano devi costruire. Avete ragione. E che io mi faccio prendere talmente tanto dal fatto di Oh mio Dio mi stanno sparando che non penso più a niente. Credo sarà una cosa che verrà naturale un po' alla volta durante il gioco facendoci... L'abitudine di tanto in tanto sentirete magari qualche rumore molesto purtroppo Oggi passano parecchie moto E chiaramente essendo un gameplay non riesco a fare tagli altrimenti dovrei tagliare un po' troppe cose Devo dire che sono contento che i video gameplay che realizzo vi piacciono, vi rilassilo soprattutto perché Chiaramente chi vuole vedere un video gameplay Insomma di qualcuno che sa giocare non guarda i miei Io ci tengo sempre arrivo a dire che il fine di questi video è rilassare Poi non so se riesco nell'intento oppure no ma Molto spesso mi dite di sì quindi Per il momento mi ritengo soddisfatto Allora non ho ancora peccato a nessuno Un'altra cosa che sono riuscito a fare con il Mac nei giorni scorsi È infilarmi in un Mac già utilizzato da qualcuno E quindi in pratica questa altra persona si muoveva E io mi limitavo a sparare Poi a un certo punto questa persona si è stufata e ha deciso di attivare l'autodistruzione E io ho rischiato le penne per tanto così Non trovo nessuno Voglio fare qualche decisione insomma Ecco un'altra cosa che ho iniziato a fare È camminare sugli alberi per Insomma per non farmi trovare Ho scoperto che qui in corso commercio Quando c'è l'orda Che però non vedo Sparando agli zombie Guadagno un po' di Come si chiama? Di scudo E quindi Quindi proviamo a Ok Facciamoci un po' di Di protezione per quando il Mac Sarà andato Credo peraltro che questi zombie qui non attacchino granché i Mac Perché vedo che appunto stanno discretamente fermi Quindi insomma per me va benissimo così E ve lo dico Mi riempio Di scudi E Peraltro poi Sempre giocando con quest'altra persona Nello stesso Mac Ho visto che sparando a queste Sorte di Di pilastri Guardate qua Benissimo Luca si fa un po' di Protezione Oh cavolo Ma questi mi ammazzano Si sono risvegliati Ok Penso che salterò Via Non riesco a saltare ragazzi Ok Forse c'era un albero di troppo No Devo proprio farli fuori Ah ok Mi sa che mi fanno prima fuori loro però Infatti Via Ah ok Però insomma qui posso ancora prendere un po' di questa roba qui Insomma Tutto sommato mi è andata bene Se riesco anche a fuggire da questa horta di zombie malefici ora Prima che mi accoppino E dovrei anche rientrare nel Sono uscito Boh Non capisco mica sapete Direi di no Dico Devo rientrare nella zona di Di protezione Ok sono uscito Ma che cacchio Allora Protezione 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 Via Ok No Mi sa che no 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 Non è andata Però vedete che ho iniziato un pochino a Muovermi In modo molto 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 Negativo Ma ce la sto Mettendo tutta Allora siccome mancano ancora 33 persone Mi sembra stupido Fare Un video di gameplay Di queste persone che giocano Che non sappiamo chi siano Quindi esco dalla partita E proviamo a farne una seconda Magari a questo giro provo a farla Senza utilizzare il Mac Vediamo se Se cambia qualcosa Sempre nello scorso video di Fortnite In queste pause Ne parlo un po' Mi avete detto che il gioco era molto alto Rispetto Rispetto alla voce Insomma Mi consigliavate di abbassarlo Ulteriormente un pochino A qualcuno Già l'avevo detto In realtà Avrei voluto anche abbassarlo un pelo Ma mi sembrava che Poi non si sentisse più Più nulla E quindi L'avevo lasciato Un pochino Un pochino più alto Oggi ho provato ad abbassarlo ulteriormente Fatemi sapere Se può andare bene così In modo tale da Non farvi prendere dei colpi Quando magari sparano O cose di questo tipo Vediamo quando parte Dovete sapere Forse se avete visto il video di venerdì Lo sapete già Mi è arrivata finalmente la fibra Quindi i giochi Non dovrebbero più laggare In modo eccessivo Ma nonostante tutto Succede una cosa Molto strana Qui con Fortnite Noto che Nonostante la fibra Ogni tanto Mi compare l'icona In alto A sinistra Della connessione Scarsa Mi fa abbastanza strana Strano Questa cosa Perché Non dovrebbe Non dovrebbe essere Però insomma Scopriamo Magari è un bug In molti mi avete detto Che ultimamente Fortnite è molto Buggato Quindi Potrebbe anche essere Non lo so Allora Voglio provare Ad andare Su questo Asteroide Peraltro Vi ringrazio Tantissimo Perché nei commenti Settimane Due settimane Fa Mi avete Ma in tutte le due settimane Non solo due settimane fa Mi avete dato un sacco di Di dritte Su come giocare Non ho ancora ben capito Come scendere In velocità In realtà Perché vedo Che nonostante tutto C'è gente che scende Più veloce di me Io posso Inclinarmi totalmente O essere inclinato Solo un pelo Ma c'è comunque Gente che Scende più veloce Più veloce di me Non so il perché Allora Ok Qui sopra Direi che c'è già Troppa gente Per i miei gusti Quindi mi limiterò A prendere Magari questo Ecco E prima di farmi Ammazzare totalmente Magari prendiamo Vabbè Le posizioni Cacchio 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 Via 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 Non ce l'ho fatta Ok Questa è una partita Nulla Totalmente Nulla Quindi facciamo finta Che non sia mai esistita E ripartiamo Settimana scorsa Avevo detto Che mi sarebbe piaciuto Fare qualche video Gameplay Anche in settimana Perché Vedo che vi piacciono molto Nonostante io sia abbastanza Un nappo E Quindi Settimana scorsa Non sono riuscito Per Per alcune questioni Lavorative Di organizzazione Ma questa settimana Conto di far uscire Un video Gameplay Martedì Martedì Arriverà Un video Che in tantissimi Avete richiesto Relativo ad Overwatch Che è L'apertura Delle casse Chi ha visto I gameplay Sa che ho All'incirca 370 380 Casse Da aprire Io in genere Non le apro Perché Insomma Più che dare Delle skin O cose di questo tipo Non fanno E Mi interessa Relativamente poco La customizzazione Dei personaggi Quindi non le apro Ma nel video Di martedì Arriverà E quindi Insomma Se vi va di Rilassarvi In questo modo Saprete cosa Cosa fare Martedì Sempre alle 4 e mezza Naturalmente Allora Voglio provare Ad andare Su questa zona Giacciata Tipo che Sì Magari aspetto Che mi Spatta fuori Proprio dal Dal bus Alcuni lo salutano Ringraziano l'autista Io non so Come Come facciano Allora Vediamo dove vanno Tutti questi Questi sembrano Più imbambolati Di me Quindi Io proverò Ad andare Così Quaggiù Ok Mi ero dimenticato Di togliere Il deltaplano Lo ammetto Ok Ho provato anche A giocare un po' In modalità creativa Così per il gusto Di costruire Fare pratica E avevo costruito Tutta una Che cos'è questa cosa Quassù Un dirigibile Una nave Che cos'è Che cosa sei Non riesco ad andarci No Volevo salire Ah Ok Non so come farò A salire Quassù Quindi credo che La cosa più semplice Da fare Sia Non salirci affatto Perfetto Non so cosa stavo dicendo Prima di Fare questa Questa scoperta Ma Ok Allora Vediamo innanzitutto Ecco Questa è l'icona Del wifi Che dice Che non va tanto Ma secondo me Secondo me Dice Bugi Bugiardo Allora Ok Ho trovato subito Qualcosa di Buono Vediamo se riesco a non farmelo portare via subito Ok Non sono neanche troppo distante dall'area Sicura Provo a prendere un po' di materiali Spero che non ci sia troppa gente disposta a farmi fuori Mi avete consigliato di Prendere I materiali Picconando Sull'iconcina Blu E rossa Quindi grazie Perché questa cosa Non la sapevo No Direi che forse conviene Che mi avvicino Già di là Ho ancora due minuti Questa la prendiamo Che dite Vabbè Al massimo per la tua Così trovo qualcosa di più potente Quelle bianche in realtà Sto cercando di non prenderle mai Perché tanto mi avete Giustamente detto Che sono un po' Delle armi farlocche Ok Un po' di metalli Un'altra cosa che non capisco Quando mi fanno fuori Poi ogni tanto capita Che guardo un po' come Come giocano gli altri E vedo che Magari anche Quando la partita è incominciata Da davvero poco tempo Gli altri hanno una quantità di materiali Impressionante C'è tipo 800 di legno E cose di questo tipo Che viene da dire Ma è passato il tempo A piccolare gli alberi E ad ammazzare me E basta Cioè ho avuto tutta questa fortuna E quindi non lo so Se sono io che Ho perso qualche trucco Magari per Per riuscire ad avere Tutti questi materiali Subito Perché in quel caso Perché in quel caso Io mi costruirei Costruirei Una bella rampetta Verso Verso l'alto E poi stare là su tutto il tempo Cercando di non farmi vedere E alla fine insomma Dovrei vincere per inerzia Munizioni Ne trovo sempre tante Ma di materiali Che mi interessa Pochino Pochino Vabbè Mi ero riproposto Di non usare il Mac Per questo secondo giro Ma visto che ce ne sono Ben tre Tutti posizionati Uno vicino all'altro Credo che sia un chiaro segno Che io debba utilizzarlo Quindi Allora innanzitutto Mi preparo Se ce la fa Ciò Qui Ok A utilizzare L'arma Nel caso in cui Trovassi Qualcuno Che vuole farmi fuori Perché se sto con il piccone Giustamente Male Male Anche perché qui sono abbastanza esposto E devo assolutamente muovermi Perché se no Sono All'interno della bufera Ok Sono quasi arrivato Nella zona sicura E quindi potrò poi fare un po' di Giri A vuoto Tanto ho la sensazione che Fra Molto presto Qualcuno mi vedrà E mi sparerà Quando vedete che compare Munizioni al massimo O cose di questo tipo Ecco Munizioni già al massimo E perché sono Troppo Troppo abituato Con Overwatch Che devo ricaricare Le munizioni E Essendo Tra virgolette Gratuite Su Overwatch Nel senso Puoi metterne quante Quante ti pare Sperate Adesso volentieri Ricarico Anche se non ne ho Troppo bisogno E questo vizio Mi è rimasto Anche qui Dove magari poi vado In realtà A A sprecarne Vabbè Prendiamo ancora Anche questo Tanto Allora Mi accovaccio E Faccio ciò Che mi avete Consigliato Cioè Spostare Le cose Ah Questa fucile Pesante Tattico Allora Fatemi un po' Vedere Come mirano Perché Ok Questo Allora Ah che cos'è Ok Questo lo metto Qui E Sì Non lo so Se è la giusta Tattica Di armi In molti Me l'avete Spiegata Ma voi Conoscete Benissimo Le armi Di Di fortnite E E io No Quindi Quindi ho più difficoltà A capire se le sto mettendo Nel voto giusto Ok Allora C'erano I mac Allora Uno è stato Già preso Perché ce ne erano tre E ce ne sono solo più Ce ne sono solo più due Uno è spostato Relativamente lontano A Cerchiamo di Non farci Fuori da sole Oggi non trovo gente Non che la cosa mi dispiaggia Sia Sia ben chiaro Ok Una pozione scudo La Allora Ok La utilizziamo Direi che potrei Tenerlo al posto Delle bende Magari Che ne dite Perché Questa sicuramente La voglio Questo Questo che cos'è Fatemi vedere Allora Cura bomba Gli scaglia Prima fiore Tutti i giocatori Vicini Applica immediatamente Salute scudi Nell'aria coperta In realtà Non lo so se questa Mi serve Perché io insomma Gioco da solo Se questo Cura i vicini Potrebbe Tornarmi poco Poco a mio vantaggio Insomma Alla peggio Ho lasciato qualcosa Che poteva servirmi Però Per Per uno scudo Quindi Penso di aver fatto Una buona strategia Spero 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 Allora Qui si può entrare No Però non mi fido neanche a mettermi A distruggerlo Eccone qui un altro succo succoso Lo lascio al posto di questo Se riesco a prenderlo Ok Mi sembra più potente Magari non lo è Ma credo che lo sia Quindi Un forziere Dorato Molto bene Vediamo cosa abbiamo Un po' di materiali Una pozione scudo Cosa curerati Io sbaglio sempre cosa Allora Vediamo un po' Continuiamo a prendere scudi Perché ho scudi nel tempo Pozione scudo Oh Sapete che io prendo questo Magari Posso usarla Chi lo sa Sì posso usarla Ok Così ho uno scudo Al 100% Credo Perfetto E posso riprendere questo E poi c'è questa Simpaticissima Questo simpaticissimo Rivolver Ok Lo prendo Non si sa mai Ok Forse dovrei andare nell'aria protetta Ora Mi sono perso Cacchio Corri 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 Sto andando alla parte sbagliata No Ok Stiamo andando verso la parte giusta Ci riuscirò A non farmi accoppare Né da chi spara Né dalla tempesta Non si sa Non si sa In tutto ciò ci sono solo più 18 giocatori Io non ho fatto neanche un'uccisione Quindi Bel gameplay Luca Complimenti Però vabbè Ci sono ancora dei mac E E penso che li Che li prenderò Proverò a prenderli C'è questo Cosa Vediamo quanto è lontana Boh proviamo Ragazzi io ci provo Insomma Mi sembra brutto Lascerlo lì Vabbè Ok Prendiamo Così Non so se ho fatto un buon affare E blu Il blu Mi avete detto che è buono Quindi Proviamo a sfruttarlo Ok Sono relativamente al sicuro Sono almeno nella zona Sicuro dalla tempesta Non dai Qui sono veramente troppo esposto Non mi piace Volevo andare a prendere Il mac Vediamo se riesco a A recuperarlo E magari a far fuori Qualche d'uno Dove diamine Allora Potrò passare qui in mezzo O è rischioso Beh Qui dentro Allora qui dentro Rischio di Di Perdermi Ma insomma Direi che non mi vedono E potrebbe anche essere Una cosa positiva Allora Il mac È lassù Vai Di corsa Luca Proviamoci E che sono veramente Un sacco esposto Ecco Infatti Cacchio Via 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 Dov'è il mac Dov'è il mac Dov'è il mac Cacchio No ragazzi Non ce l'ho fatta Neanche questa volta Ce l'ho fatta Sono arrivato Tredicesimo Vabbè E non ho accoppato Nessuno Allora È un gameplay Abbastanza Diluvente Per i miei punti di vista In genere Riesco a fare fuori qualcuno Ma spero vi abbia comunque Rilassato Un pochino Direi che per questo Video Possiamo concluderla qui E vi ricordo Martedì Alle 4 e mezza Ci sarà l'apertura Dei Dei forzieri Su Overwatch Se vi va Di vederla Insomma Lo guardiamo Lo guardiamo assieme Buona domenica Buon fine weekend E Buon relax Ciao Ciao